Le tre persone più protette del pianeta. 1. Il Papa. Il Papa vive in uno dei paesi più sicuri del mondo, città del Vaticano. Durante le cerimonie ufficiali viaggia con la papamobile antiproiettile con vista aperta. Le guardie accompagnano il Papa ovunque lui si rechi. Il Vaticano ha persino un piccolo esercito di ex soldati svizzeri che proteggono il Papa. 2. Kim Jong-un. Non sorprende il fatto che Kim Jong-un, attuale leader della Corea del Nord, debba essere ben protetto visti i suoi numerosi nemici. Circa 20 milioni di dollari vengono spesi per proteggere Kim ogni anno. Il dittatore viaggia in una limusine blindata e ha a sua disposizione il comando della Guardia Suprema composto da 100.000 soldati che lo proteggono. 3. Fino a poco tempo fa era la regina Elisabetta. Sua altezza reale, ora è il suo discendente diretto Recarlo. La sua security costa circa 27 milioni di sterline all'anno, pagati dai contribuenti britannici. Occorrono oltre 180 ufficiali SAS per proteggere il Re. Il suo comando di protezione speciale gira per Londra in auto rosse della polizia.